Ciao a tutti ragazzi! Quello pure benvenuti a un nuovo episodio di Centroquattro 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 L'ultima volta avevamo salvato La... La Roscia, come si chiama la Roscia? Non me ne dimentico sempre come cavolo si chiama la Roscia Kinzi! Eh, sono non ricordato Ci siamo... Abbiamo salvato Kinzi Ora Se vogliamo chiudere la simulazione dovremmo costruire una chiave Eh, vai Trova i pezzi della chiave Incontra Johnny Gutt Ok Ok Dai Appena prima che mi eravessi Quindi come facciamo questo? Se posso hack direttamente nel sistema principale Poi posso portare le luci tra le simulazioni E poi Zinyak aveva un'enorme quantità di risorse Buono Non lo vogliamo di crashare? Oh, è vero Non potrebbe essere capito di stopperla Ma per ora ho bisogno di una chiave Per una chiave Questa chiave Sì, è come una cosa tecnica di computer, come potrei sapere? È un processo centrale Sì, sai cosa? Intuisco tu cosa Posso usare qualcosa? No, niente Andiamo col furgoncino Adagere, signora No, 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 no Spara, spara, spara Spara, spara, spara Spara, spara Ah, ci sono delle ispezioni Io esco No, aspetta, che era? No Questo Aia Questo non c'è niente Perfetto, io vado Tanto tu Johnny intratieni lì Qui non c'è niente Perfetto No, 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 no Qua No Sì No, non è questo Esattato, l'ho fatto di mettere questo Ok Tu, c'è qualcosa? Eccolo Prendi la CPU Prendi la CPU Vado alla torre, vado alla torre 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 Vado a prendere la macchina Vado a prendere la macchina Vado��a Vado a prendere la macchina Whats. Stiamo... Ci suc Perquè Sì sì Beh Tiè Tiè così Senti io sai che stanno così Tiè Hoppela Vado al molo Dove sta al molo Vedete che vi da alzano Ho visto che sta a ricordare di 50 Ah, scoppatevi forse Non avete in fretta prima ma che Soprattutto vedete, ok Andiamo 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 Vai Porca palettozza Sono un bel trenino Io perché vado sulle rotaliche Sono un bel trenino Io perché vado sulle rotaliche Io perché vado sulle rotaliche Tatooo Ok Soprò la fucca Aia E perché non gli erano gli ultimi generati Aia, aia, la vita, la vita Perché avrete gli ultimi generati Avranno dato che non stavano volando Perché non erano attivati Aia No No Ci vediamo questo No al P, non al P Eccole la T, P, T, 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 T Oh Tu Vieni con me E anche tu Che ho fatto Oh no 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 Eccomi Ma perché già parla così tranquillamente C'è lui sta accadendo Lui va beh Sì tranquillo Credo che sto accadendo Per non dire niente di che Sì 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 Ma ben lì C'è un po' troppi più gusti Eh Sì 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 Dove stai te Ecco tu Allora salve Tu sei mio Non puoi che Aaaaaa Uno, due, tre Vedimmi un po' Finisci la chiave Vai da CID CIDino mio Sì 3000 C'è il chè C'è stato C'è stato un po' Non c'è Non c'è Se fosse così semplice Non pensi che Si Non c'era No Scusa Non c'è Un po' Si Si Non c'è 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 Un po' No Non c'è Non c'è Non c'è Un po' Non c'è Un po' Ok Vai Oh ciao Shondi Ho capito Ho capito C'è La finta Shondi Ho capito C'è Un po' Ah I Stai Qua dentro? Oh, beh, salve! Cosa stai facendo? Cosa? Siete che ci hai chintato, certo? Ma, dicendo che è facile? Jesus, hai detto di nuovo! Ehm, ma che è? 12 anni? Dio loro che è troppo male Dio loro che è troppo male Dio loro non andano male Ahia! Ok Ok Ah, ah Ahia, ahia Ahia, ahia Ahia, ahia Dolore fisico, dolore fisico Perché non funziona con loro Sta qua dietro Allora Ahia! Ahia Ora tu lo so È solo una coincidenza Vedete? È un generatore che non è ancora tornato Qui è? Perché gli generatore stanno facendo più protezione Nel senso delle stante che noi abbiamo Interrotto il lavoro, Shondi ha ragione Perfetto E ora, mentre voi fate il casino Io prendo la batteria e me ne faccio Perfetto Grazie Perfetto E io me ne vado Ma Shondi? Shondi? Senti, io non me do eh Non di niente Shondi saldi Shondi saldi Beh Dai 600 Attenzione Ok Uomo è vivo, la batte Che palle Ah, quindi è esplorata Pensavo che mi avessero sparato Ma dove? Ma dove è lei? Ok Ti vorrei Ah, ecco, sta qui Posso sapere come cavolo ci sei finita qua sopra te? Vai, entra Ti faccio vedere io come si guida Ehm Do Oh Scappa Vabbè ciccia Me do Dai 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 Oh, la musica sotto c'è sta eh An ora Dora Allora Dora Guardate e che il nostro predicamento attuale sia il risultato della tua mappa guardate la tutta un bocchaggia che non sto mai chiusa a dire di più dove potremmo stare? andiamo qua che sta all'incirca qui eh? ah ecco e vabbè perchè la pica c'è si è certo facciamo questo ok siamo finito vai eh succedo vai 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 se potresti andare a casa in Kinsy si potresti andare a casa in tempo 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 si potresti andare a casa in energia almeno c'è un pietro di sede quindi io freddo in questo campo di forza e non salto in aria certo buon lupo e ci potresti andare c'è una tipica bumeria di opio non troppo lontano da qui inti vado ad accompagnarmi prima che torni la nave ma dai tu in serio? va bene ta 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 ah vedo dove mi è meno male vediamo un po' ma bene ragazzi l'episodio per finire qui abbiamo preso le batterie super mega giganti mi sono un casino divertito con questa cazzo di carro armato non lo so perchè sto parlando così dobbiamo scoprire cosa succede nel prossimo episodio secondo me non ci siamo vicino nel finale come penso che avete già detto che cioè non è possibile stiamo facendo un sacco di cose e poi niente cioè vi voglio rilasciare un bel pollice disponibile commentare e condividere ci vediamo al prossimo episodio di 6 intro 4 ciao 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 ciao